un prossimo pezzo sinceramente non so di cosa parlo ma mi hanno detto che devo parlare io e allora devo dire qualcosa comunque un pezzo del cream è al 68 e faceva presto a poco così in the white room will black curtains near the station back to the country no no papers talk to the story see the horses bright on your crew even in the dark for you does a smile on your lips my consent has come to me wait to Grazie per la visione 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 Grazie per la visione